Gli alimenti prodotti dall'agricoltura contadina hanno un costo maggiore rispetto a tutto quello che viene prodotto dalla grande industria. Quando noi mettiamo un prodotto su un tavolo la grande industria o i grossi produttori hanno un costo molto basso, quantifichiamolo e 3, 4, 5 euro il contadino che produce ha un costo molto maggiore e ha una qualità anche ben diversa perché se produce nel biologico ha un costo maggiore. A questo punto bisogna andare a vedere la differenza che ci sono nei prodotti perciò fare una cultura dell'alimentazione di quei prodotti e vedere le differenze che ci sono. Prima di dire solamente quello costa di meno, lo compro e l'altro no perché costa troppo. La differenza di fare questa educazione alimentare è partendo dal livello più basso, cioè dalle scuole e andare avanti. Grazie.